due settimane e due giorni è trascorso tanto tempo dalla burrascosa scena che tutti noi abbiamo visto all'epilogo durante l'epilogo di juventus e genoa juventus stadium durante la quale conte e altri giocatori della juventus protestavano contro l'arbitro guida per il mancato rigore concesso ai bianconeri conte in seguito ha rivelato che l'arbitro gli disse non me la sono sentita di accordare il rigore perché era il 93 ebbene dopo due settimane due giorni non abbiamo ancora saputo dai vertici arbitrali se questa frase fosse vera se guida l'avesse pronunciato oppure no se conte abbia detto la verità o abbia mentito nel frattempo guida è tornato in campo ieri sera per dirigere inter chievo a noi questa omertà non piace per niente i vertici arbitrali debbono stabilire se questa frase che qualora fosse vera sarebbe di una gravità inaudita sia stata o non sia stata pronunciata non è facendo finta di niente che il problema viene risolto gli appassionati di calcio aspettano da nicchi e braschi di conoscere la verità staremo a vedere quanto tempo ci metteranno